Centri urbani operativi di riqualificazione economica. È una delle azioni del programma integrato di interventi Grande Napoli del protocollo d'intesa che un anno fa venne firmato fra Comune e Ministeri per la coesione territoriale, pubblica amministrazione e semplificazione, per sostenere interventi di rilancio della vita amministrativa ed economica della città. I centri Cuore, un progetto del Comune di Napoli attuato dal Formez, si rivolgono alle imprese esistenti e da coloro che vogliono avviare un lavoro autonomo, fornendo assistenze ed accompagnamento nel risolvere le problematiche specifiche dei processi di creazione e sviluppo di impresa. Noi proponiamo dei percorsi innovativi di ripresa della legalità, facendo delle visite presso tutti i quartieri della città di Napoli. Saranno date informazioni su tutte le normative, tutti i benefici che si possono avere per lo sviluppo, la nascita e il consolidamento di nuove attività imprenditoriali. Quindi praticamente tre linee fortemente integrate tra di loro, strategia, struttura e azioni innovative per il rilancio della città di Napoli. Saranno dieci gli sportelli, uno per ogni municipalità, che gratuitamente incontreranno imprenditori ed artigiani anche direttamente nel loro luogo di lavoro, per assicurare un rapporto di fiducia e riservatezza. E domani a Napoli è atteso anche il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, proprio per un'iniziativa di contrasto al lavoro sommerso. Per aiutare le piccole e piccolissime aziende ad uscire dal sommerso, a entrare dentro ad un percorso di emersione, sapendo che in questo modo esse possono contribuire allo sviluppo della città. Peraltro siamo alla vigilia dell'arrivo del Ministro Poletti in questa città, proprio per parlare di lavori di contrasto al lavoro nero, il Comune di Napoli non solo ne parla, ma agisce anche coerentemente. Grazie. 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 Grazie.